Ciao ragazze, in questo video vi voglio far vedere cosa ho indossato per una serata fuori. Nelle serie d'estate mi piace lasciare i capelli mossi, naturali. Come vestito ho scelto questo di Stradivarius, che è un abito semplicissimo blu, un pochino elastico ma molto morbido addosso. Stringe un pochino in vita, quindi evidenzia il punto vita e in basso scende un pochino largo e svolazzante. Come trucco ho scelto questo ombretto, che è un ombretto che ho creato io, color Tiffany, infatti l'ho chiamato Tiffany & K, e K sta per Carlita. Sul viso ho un tocco di luminosità ed effetto abbronzato con il mio fondotinta minerale. Per impreziosire un pochino questo vestito, che è molto molto semplice, ho scelto questa pariurra che l'ha fatta mia madre, color caramello, vedete? Con lana, bracciale e orecchini, che è davvero bella bella d'estate, mi piace tanto, anche sulla pelle un pochino abbronzata. C'era anche questo bracciale, che ha fatto sempre lei, che però era un pochino troppo grande, quindi ho scelto l'altro. Ho messo anche il bracciale di Sufil, con gli charms, e l'anello Miss Sixie, che è fatto a quattro, questo è bellissimo, me l'ha consigliata una ragazza su YouTube e subito sono andata a comprarlo, le mando un bacio grande se mi sta guardando. Le scarpe sono di Bata, questo color caramello, mi piacciono queste scarpe perché sono comode, hanno un tacco non tanto alto e sono molto molto comode. La borsa di Pull&Bear, dello stesso colore delle scarpe, che richiama anche i colori di la pariurra. Per abbronzare un po' le gambe e farle luccicare, ho messo il mio autobronzante e gocce di bellezza. E questo è tutto, io spero che vi sia piaciuto, lasciatemi un commento che mi fa sempre tanto tanto piacere, vi mando un bacio grande e buona estate, ciao!